Rifiuti, la Regione Lazio ha stanziato 150 milioni di euro per la raccolta differenziata. Raccolta differenziata che è il cavallo di battaglia per Michele Civita e in provincia, con la provincia di Roma, tantissimi comuni che hanno iniziato e addirittura portato la differenziata anche al 68%. Sì, è un nostro cavallo di battaglia, del Presidente e anche il mio, per una ragione semplice. Le direttive europee, la legge italiana prevede che tutti i comuni, adesso nella legge di stabilità, viene confermata e viene messa una data, il 2016, dal Ministro Orlando. Entro il 2016 bisognerà raggiungere il 65%. È una cosa importante perché significa fare in modo che i rifiuti possano diventare una risorsa. Noi ci siamo attardati troppo, questo ha creato emergenze e problemi, su cui Roma, ma tutta la Regione, sta adesso facendo i conti e pagando a caro prezzo. Quindi questa è la priorità su cui tutte le istituzioni devono lavorare. Il nostro piano, il piano regionale rifiuti, noi l'abbiamo già cancellato a luglio, lo scenario di controllo che prevedeva la possibilità di nuovi impianti, se non si raggiungevano gli obiettivi di raccolta differenziale. Noi l'abbiamo cancellato perché noi vogliamo, e questo è il lavoro che adesso stiamo sviluppando, modificare, migliorare, aggiornare l'attuale piano, proprio per rendere credibile, con una serie di azioni, rendere credibile questo obiettivo. E vogliamo rivedere tutta l'impiantistica legandola a questo obiettivo. Quindi ci sarà bisogno di una maggiore impiantistica legata alla raccolta differenziata e probabilmente ci sarà bisogno di meno impiantistica legato alla chiusura, al resto della chiusura del ciclo. I rifiuti di Roma adesso stanno andando fuori città. C'è stata una grande discussione sul dopo Malagrotta, una grande discussione che ha visto tantissimi cortei per il no alla discarica di Falcognana, nonostante si trattassero, ripetiamo ancora una volta, di rifiuti trattati, quindi non più di tal quale. Adesso c'è la Bracciano Ambiente che ha proposto di realizzare un'altra discarica vicino a quella già esistente. Cosa sta succedendo? Noi abbiamo bisogno, per quanto riguarda tutti gli impianti della regione, quindi anche a Bracciano, di una verifica per garantire il futuro dei prossimi anni, di quei bacini. Quindi non c'entra nulla a Bracciano con Roma, sono problemi differenti, come Guidonia non c'entra nulla con Roma, come Latina non c'entra nulla con Roma. Parliamo di bacini, a Bracciano conferiscono 26 comuni e noi dobbiamo garantire, come abbiamo iniziato a farlo a Roma, che tutti i rifiuti siano trattati, così come prevede la legge, e che anche lì, ma lì più che a Roma, già c'è stato un lavoro di molti comuni e la raccolta differenziata la fanno in moltissimi comuni. Anzi, credo che uno dei problemi che ha il comune di Bracciano e la Bracciano Ambiente è proprio per la riduzione forte dei rifiuti che c'è stata in questi anni, dovuta in primo luogo all'avvio della raccolta differenziata in molti di questi comuni. E' chiaro che l'aumento che loro propongono riguarda il futuro di quel bacino, il futuro dei prossimi dieci anni di quel bacino, perché noi puntiamo con la raccolta differenziata a riutilizzare il maggior numero di rifiuti, a chiudere il ciclo trattando negli impianti il resto dei rifiuti che non si riescono a differenziare. Purtroppo una parte, sia degli scarti della raccolta differenziata, sia degli scarti del trattamento dei rifiuti, noi non possiamo che interrarli. Ovviamente interriamo quantità e dobbiamo sempre più interrare quantità, sempre più residuali, sempre più piccole, ma comunque abbiamo bisogno di piccole discariche, di servizio per chiudere il ciclo. La regione Lazio sta ben lontano dal 65% e quindi bisogna, tutte le risorse che abbiamo disponibili, tutto l'impegno che abbiamo dobbiamo metterlo in primo luogo su quello, ma insieme poi va pensata tutto il resto dell'impiantistica, l'ultima della quale è la discarica e quindi anche discariche piccole di servizio. Quindi in Bracciano non c'entra nulla con Roma e la discussione che noi abbiamo con i 26 comuni riguarda il futuro di quel bacino. Per quanto riguarda Roma, noi abbiamo raggiunto un risultato storico che è stato quello in primo luogo l'11 di aprile, appena siamo arrivati, anche facendo per la prima volta nella sua storia accordi con altre regioni, non si è riusciti a trattare tutti i rifiuti di Roma. È chiaro che Roma dovrà nel futuro essere autosufficiente, purtroppo ancora non è autosufficiente, e questo crea elementi di emergenza e di tensione che si riflettono su tutta la regione. Però l'obiettivo deve essere questo, quindi la nuova amministrazione comunale dovrà lavorare per aumentare fortemente la raccolta differenziata, farla bene, perché farla bene significa poter recuperare il più possibile questi rifiuti e farli diventare nuovi materiali per poterli riutilizzare e poi Roma dovrà trovare la chiusura del ciclo. Noi aiuteremo Roma in questo lavoro difficile, l'abbiamo già aiutata ora, ripeto, dall'11 aprile i rifiuti di Roma sono trattati, abbiamo nel mese di luglio già finanziato la raccolta differenziata a Roma, quindi abbiamo dato ingenti risorse per poter implementare, migliorare la qualità della loro attività, che è, lo ripeto, prioritaria, e poi Roma dovrà, adesso ha scelto di portare i rifiuti fuori e la Falcognana, che io ricordo, è una discarica che già esiste e tutt'ora è in attività dal 2006, esiste dal 2006 e tutt'ora è in attività, come ha detto il Ministro Orlando e come ha confermato il Comune di Roma, sarà utilizzata solo se dovrà esercersi un'emergenza. Poi in prospettiva il Comune di Roma dovrà trovare gli altri impianti e quindi anche un sito di smaltimento che possa chiudere il ciclo. Questa sarà una responsabilità che avrà il Comune, noi con le risorse a nostra disposizione e con l'aggiornamento del piano daremo tutti gli strumenti al Comune per fare la scelta migliore. L'inceneritore ad Albano si farà? Dentro questo quadro noi stiamo verificando la necessità di tutta l'impiantistica. È chiaro che se si punta con forza al 65%, stiamo valutando con dati scientifici, perché siamo persone serie, che quindi hanno a cuore il bene comune, non prendono posizione solamente per ragioni politiche o di ispirazioni culturali. Noi per formazione siamo, sono, più legato a favorire tutti quegli interventi che siano più sostenibili dal punto di vista ambientale. Però siamo persone serie, quindi stiamo studiando, ripeto, la priorità, perché questo ce lo dice la legge, è il 65% e tutta l'impiantistica non è ancora realizzata, la verificheremo su questa base. Nel mese di dicembre presenteremo una prima bozza del mese di dicembre con le nostre linee guida per poi arrivare a gennaio a presentare una proposta di modifica e di miglioramento dell'attuale piano che sia più rispettoso delle leggi e speriamo sia anche più utile per la nostra collettività. L'incendio di Albano in questi anni non è stato realizzato e sicuramente è l'impianto che più è subiudice. Noi stiamo verificando se la Regione nei prossimi anni avrà bisogno o meno di quell'impianto.